sabato 23 settembre bentrovate e bentrovate a liberi dentro e do radio tv la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi tiene compagnia anche nel weekend oggi tratterò un argomento interessante perché c'è uno studio uno studio dell'università della california sull'utilizzo dello smartphone e voi direte beh che novità sappiamo abbastanza bene un po tutti come funzionano certe cose e che tipo di impatto abbiano nella nostra società sì però si parla dell'utilizzo del cellulare da parte dei genitori dei bambini che sembra limiti diciamo abbia effetti negativi sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva questo studio è stato realizzato da robin nabi una professoressa di comunicazione dell'università della california che ha mostrato che guardare spesso il cellulare davanti ai figli potrebbe avere un impatto negativo proprio sullo sviluppo come vi dicevo dell'intelligenza emotiva che comprende quelle abilità mentali che consentono a una persona di riconoscere capire e gestire i propri stati emozionali e quelli degli altri quindi per un bambino avere un genitore un caregiver come si dice oggi con lo sguardo assorto davanti davanti a uno schermo da quel senso appunto di non attenzione e soprattutto lo diciamo di scarsa reattività rispetto a quello che succede la professoressa ci spiega che le persone nascono con un certo livello di intelligenza emotiva che varia ovviamente da persona a persona ma che nella vita specie nell'infanzia è una dota che una dota che si può sviluppare che va migliorando e ci sono persone che hanno per esempio per natura una sensibilità maggiore nel cogliere le sfumature emozionali altre che ne hanno un po' meno ma comunque l'esercizio porta a un miglioramento con la conseguenza di un maggiore livello di benessere e anche appunto un maggior successo sul lavoro molto spesso o comunque nelle relazioni. Antonella questo è un tipo di intelligenza da approfondire e da studiare meglio come diceva Aristotele l'uomo è un animale sociale e comunica non solo attraverso il linguaggio ma attraverso anche il corpo attraverso tutta una serie di meccanismi e dinamiche e questa è un'intelligenza che sicuramente ci può aiutare a comprenderci l'un l'altro ed evitare quindi fraintendimenti e conflitti quindi sono curioso di sapere in che cosa consisteva questo studio. Intanto Alessandro la professoressa Nabi ha coinvolto 400 genitori di bambini con un'età dai 5 ai 12 anni sono state effettuate ovviamente diverse valutazioni nelle quali i genitori hanno misurato il livello di consapevolezza emotiva dei propri figli quindi la loro capacità di controllo e anche il loro grado di preoccupazione verso gli altri. Tra le domande poste nel questionario che chiaramente è stato distribuito alle famiglie veniva chiesto quali fossero i media utilizzati in casa e con quale frequenza e ovviamente è venuto fuori che molto spesso ci sono stati e molto spesso vengono usati dei cellulari e l'unica variabile associata a una minore intelligenza emotiva da parte del bambino era quando i genitori utilizzavano il cellulare in presenza dei figli. Ecco indipendentemente dal tipo di azione che il genitore facesse con il cellulare che poteva essere che ne so mandare messaggi oppure guardare qualcosa il bambino vede che c'è una mancanza di reattività e una faccia inespressiva ed è importante che i genitori siano consapevoli della frequenza con cui usano i telefoni davanti ai bambini anche delle ricadute che possono avere appunto sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva e concludo dicendo che l'esperta racconta anche che la sua ricerca è cominciata nel 1991 quando ancora i cellulari non erano così diffusi e così di uso comune per cui i media a disposizione erano la tv erano i computer eccetera e infatti la professoressa non demonizza l'uso dei media assolutamente spiegava soltanto che per esempio nella sua famiglia non c'era il divieto dell'utilizzo di nuove tecnologie ma semplicemente delle regole chiare quindi ribadisce l'importanza di regole chiare che fanno effettivamente la differenza per provare a non diciamo svilire o addirittura annullare certe capacità che naturalmente le persone hanno appunto come l'intelligenza emotiva di cui abbiamo parlato sino adesso e mi fermo qui per passare la parola ad una rubrica che è condotta da Gabriele Arosio e che oggi tratta di una persona veramente importante per la storia di resistenza per la storia delle donne per la storia del Brasile la rubrica si chiama storie di leoni e oggi Gabriele Arosio ci parla di Marielle Franco ascoltiamolo insieme ciao Gabriele ben trovato e oggi ci parlerai di una donna di una Morgana come avrebbe detto Michela Morgia che il 14 marzo 2018 nella città di Rio de Janeiro viene assassinata e che si chiama Marielle Franco una donna di 38 anni e questo sicuramente è stato il più grave delitto politico della storia recente del Brasile e andiamo per un momento a quel giorno buongiorno Antonella buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono in audio e in video un abbraccio a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere come hai detto ecco ci trasportiamo idealmente in una giornata particolare il 14 marzo 2018 una giornata che coinvolge Marielle Franco in qualcosa di drammatico si tratta di una vera e propria esecuzione Marielle è freddata con diversi colpi di pistola alla testa provenienti da una macchina che ha affiancato alla sua insieme a lei muore l'autista Anderson Gomez e gravemente ferita una sua collaboratrice sono stati sparati 13 colpi in tutto la polizia ha ritrovato 9 bossoli calibro 9 sparati a poca distanza dalle vittime e senza nessun segno di rapina un agguato progettato per eliminare una voce scomoda ma anche una delle favorite alle elezioni presidenziali del Brasile che si sarebbero tenute di lì a qualche mese a ottobre del 2018 da quel momento decine di migliaia di persone il 14 marzo 2018 scendono nelle strade per veglie e cortei gridano Marielle presente davanti alle telecamere di tutto il mondo Gabriele è vero che quel giorno i sicari hanno ucciso una persona ma quella persona rappresenta perché lo rappresenta ancora oggi molte identità le donne nere gli abitanti delle favelas i poveri le madri sole le persone lgbtq plus ma raccontaci chi è Marielle Franco Marielle nasce e cresce in una favela a nord di Rio de Janeiro la favela di Mare dove è anche vissuta per la gran parte della sua vita Marielle si è sentita presto parte della comunità lgbt identificandosi come una donna bisessuale nel 1998 ha avuto la sua prima e unica figlia e due anni dopo ha incominciato i suoi studi preuniversitari ha fatto crescere la figlia senza l'aiuto del padre e ha lavorato come insegnante la morte di un'amica uccisa da una proiettile vagante nel 2000 ha indotto Marielle a cominciare a interessarsi dei diritti umani nel 2017 si è trasferita nel quartiere di Tijuca con la compagna di lunga data Monica Teresa Benicio e la figlia avrebbero voluto sposarsi nel settembre del 2019 Marielle nel 2007 si è laureata in scienze sociali nel 2011 si è specializzata in responsabilità sociale settore terziario e nel 2014 ha conseguito un master in pubblica amministrazione nel 2016 quando si è presentata per la prima volta come candidata è stata eletta consigliera nella camera municipale nel consiglio municipale ha preseduto la commissione per la difesa delle donne ed è stata membra di una commissione incaricata di monitorare l'azione della pulizia federale a Rio de Janeiro ricoprendo tale incarico fino al suo assassinio si è dimostrata critica nei confronti dell'intervento federale e ha ripetutamente denunciato gli abusi della pulizia e le violazioni dei diritti umani pochi giorni prima della sua uccisione aveva accusato ancora una volta pubblicamente le azioni violente dei reparti della pulizia militare in particolare nella favela di Acari dove era rimasto ucciso Matteo Smelo l'assistente di un sacerdote quanti devono ancora morire prima che questa guerra finisca scritto Marielle commentando l'omicidio. Marielle Franco ripeteva spesso che le nostre vite hanno importanza e molti giustamente hanno riposto una speranza in quelle parole. In Brasile Antonella l'1% della popolazione possiede circa il 30% delle risorse totali del paese. Il Brasile è un paese lacerato dalle disuguaglianze sociali, dalla violenza di classe, di genere, dal razzismo. La lotta di Marielle Franco nasce dai presupposti di questo divario sociale, caratterizzato dalla violenza urbana e da un'enorme ingiustizia socio-economica che affligge gli oltre 71 milioni di individui del cosiddetto paese continente. Nel discorso che Marielle non poteva tenere in un consiglio comunale perché uccisa prima aveva scritto. In Brasile le donne nere non arrivano a guadagnare neanche il 40% di quello che guadagnano gli uomini bianchi. E siamo noi donne nere che soffriamo maggiormente la violenza quotidiana. Ma anche se percepiamo salari inferiori, ricopriamo incarichi più bassi, affrontiamo una giornata di lavoro tripla, siamo soggiogate per quello che indossiamo, veniamo violentate sessualmente, fisicamente e psicologicamente, siamo uccise quotidianamente dai nostri partner, noi non resteremo zitte, le nostre vite hanno importanza. Gabriele direi che valga la pena ricordare alcune reazioni alla sua morte che in qualche modo ci aiutano a contestualizzare, a capire che quel momento ha avuto un senso che non è terminato, il senso di quella vita spesa per l'amore e la giustizia. È proprio così Antonella, davvero. Io vorrei proporre ora a tutti noi di ascoltare alcune reazioni alla morte di Maria Alfranco, alcune dichiarazioni di amici e stimatori che ci possono aiutare a recuperare il senso di questa esistenza. La prima dichiarazione è quella dell'Ordine dei Francescani di Rio, nella persona del frate Fidenzio Van Bommel, della provincia francescana del Brasile, che ha manifestato il suo stegno e la propria tristezza in una nota pubblica, rilasciata il giorno seguente all'omicidio di Marielle. Maledette siano le armi che feriscono e uccidono persone, maledette siano i soldi che opprimono invece di servire e maledette siano tutte le strutture che rubano l'umanità alle persone e li trasformano in oggetto in mano a coloro che li dominano. Il teologo Leonardo Boff ha dichiarato Marielle è diventata per noi un archetipo di donna che ha saputo sempre coniugare giustizia sociale con la politica. Il suo sorriso radiante e la sua determinazione a lottare per noi, per una società più giusta ed equa, si mescolano con la tenerezza del suo vigore e questo è il suo messaggio immortale donato a tutti noi. Il messaggio più singolare arriva da un amico e membro del Partito Socialista, Marcelo Fraizzo. Quanto è stato difficile ma bello vedere il tuo nome nei cartelli e sentirlo nelle voci dei tanti giovani per le strade di Rio, le stesse strade che abbiamo io e te percorso insieme. Ho visto una moltitudine di persone piangere e trasformarti in un simbolo di quello che eri, anzi di quello che sei. Mi sarebbe piaciuto che tu fossi con me ad Aliri e nella Cinelandia. È stata la prima volta che mi sono trovato senza te, ma tu forse non eri lo stesso, eri nei sogni di un'intera generazione. E per concludere vorrei consegnarvi anche il messaggio della sorella di Marielle che si chiama Aniel. Aniel ha dichiarato che l'eredità che Marielle lascia è questa. Le persone devono avere speranza, devono alzarsi ogni giorno e credere che ci saranno nuovi giorni. Dopo aver ascoltato Gabriele Arosio passiamo al laboratorio di improvvisazione teatrale che è stato fatto all'interno della dozza nell'occasione dell'estate dozza. Questo laboratorio è stato condotto da parte del teatro a molla che ringraziamo tantissimo sia per la disponibilità sia per il bello spettacolo che ci ha fatto vedere e ora ve lo proponiamo. E non perdetevi il gioco che hanno fatto dopo lo spettacolo. È stato molto bello. Ascoltiamoli. Ci scusiamo se la qualità dell'audio non è perfetta, ma come potrete ben immaginare la casa circondariale Rocco d'Amato non è un luogo adatto alle registrazioni né lo sono le altre carceri del resto. In ogni caso, questo le ha conferito sicuramente più autenticità. Quindi, buon ascolto. è bambino, ma sicuramente dal tuooi attività. E' per esempio, mi trovo. Finalmente, hai 70 anni che posso confessare perché io faccio anche i diritti, mi chiodo, ma non ci ho 5 volte un giorno da bene. E' così che abarmi con il corpo! Che cosa in casa che... Ma perché con questa ci sono dieci anni? Antonio, un giorno tutto questo sarà tuo. Quando io sarò morto. Tutto. E quindi abbine cura, conservano, perché è della famiglia. Assolutamente. Capito? Quando io non ci sarò più da te dirai tutto. Abbine un punto. Abbine un punto. Tottore. Buongiorno. Sono il bimbo della casa accanto. È che giocando... Scusi, posso entrare? È che giocando di tempo. Il pallone e il suo giardino. Allora posso recuperare il pallone? Pallone? Sì. Tutto qua. No. 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 La mia proprietà è questo il pallone. È qui? 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 E mi dà schiacciare? Hai capito che il vicino ha messato tutto in giù e c'è il mio padre Ma non c'è il tuo, ma cosa ne fai che mi parla? Qua è tutto mio Ma cosa ne fai che mi parla? Me l'ha lasciato mio padre qua Allora non è caduto qua Allora se lo fai e lo fai con i tuoi piatti di classe No E' il figlio Ma no 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 Ehi, va Abbiamo morgato in giù Basta, se continui così Io me ne vado lo scopo di un sacco di morte Non mi piacciono i ragazzi che si era in testa come il mio figlio di pioggia Che fortuna, ho una voce che mi conosci già sempre Morda Per favore mi devo rendere anche i libri di ma Ma no, no, no Sto sposata con quello che ha detto E tu hai avvicinato? Chi? Non abbiamo neanche avuto figli ma i miei figli costano Cosa te ne fai di tutti questi soldi? Io devo possermare la proprietà di mia mamma E poi? Tra cinque anni sarei conto? Quattro? Quattro? Ma non c'è la proprietà del suo padre Senti io, quel palmo io sento di me lo scena E la tua quantità è tua Sono meglio E' un'altra cosa Non c'è Non c'è Perché non c'è Ma non c'è Ma tu la porto con più E ti provano la c'è Tocco! Buongiorno. E sono Maria Di Piero. Mi dico che appunto vuole un pallone. Guarda, mi è molto affezionata. Mi ha pagato solo pappa. Io sono pappa di mai. Stai a tanti mesi a mano. Spero che mi dà un pallone. Se le fa pappare in banca, mi dà qualcosa. Ma io non voglio un pallone. Io voglio un pallone di mio figlio. Ma che c'ho fatto due dati? Uno si è anche un po' ordinato. Io non posso ripagar mai s'altro così. Ok, allora io ho questi soldi che li dà. Lei adesso viene con me a spiegare a mio figlio che cosa ha fatto con il suo pallone e perché. Ti ero guardando sul pappa? Sì. Mi manico il mare naio. Stavia sei che ci danno. Prima di partire via la retta. Ci sono delle cose che non si toccano. Sì. Ciao. Mi dispiace cosa succede. Vai conti con la sua presenza. Sì. Ah. Sì. Sai che al superficiale c'è il 3x2 dei biscotti e delle bibite. Sì, un po' di vita è questa casa, polverosa, piena solo di reghi, di gacce, di... Sì, non ci siamo più. Ma se me ne vado via prima io, me la posso lasciare per? Sì, ma anche io, che non puoi me ne vado, è anche presto. Non ce la lasciamo, tutto questo? Perché non abbiamo fatto film? Perché costavano troppo. Perché costavano troppo i film? Sì. Sì. Dai, organizziamo festa, chiama Piero, chiama qualcuno dopo. Sì. Ho buttato una vita intera a cercare di proteggere le cose del mio padre. E adesso? Allora... Non è un buono. E non è un po' anche di ciò, ma è meglio che si paga la città. No, ma stiamo parlando circa di cose buone. Potete mangiare tutto quello che volete. E anche... Segui a gare sopra un po' di lecce, ho già potuto contorre via. E posso vedere il tuo bicoccolto? Eh, eh, sì, non so se la prima di aver capito, ma... Ricordo, eh, ne prendiamo due. Oh, no, 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 no. Lo so, non è il tuo parola iniziale, io l'ho rinato. Però questo parola l'ho fatto arrivare sulla nave di tuo padre, infatti. Con il suo soppeggiato, è il resto. Ah, che madre di una perdita. Ah, che si può fare? Caro Pietro, lo so che la vita con te non è stata molto felice, molto facile, però adesso questo signore si recupera di te in attesa del mio ritorno. Io troverò appena finita la stagione di pesca, però lui ha deciso di si prenderà cura della mia famiglia quando io sarò male. Ma quanto riguarda la mia famiglia? Non faccio questa cosa! Ma facciamo un brindisi al signor Antonio. No, non mi merito niente. Anzi, d'ora in poi, qualsiasi cosa che voi abbiate bisogno, chiedevi. Vi prego. Ok? Vai a darmi un bracciatore al signor Antonio. Ma facciamo 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 un bracciatore al signor Antonio. Tu l'hai un pezzo di pizza? Un pezzo di pizza sì, da qualche barco c'è. Ah, un pezzo di pizza ce l'abbiamo? Noi ne abbiamo 10, c'era 9 per 5, allora ho preso 10. Ah, lì ce l'avevano con 9 per 5. Io sono il pallone. Io sono la casa sull'albero. Io sono un pallone. Io sono un sentiero. Io sono un pallone. Io sono un pallone. Io sono un pallone. E non sono la rispettazione di voi se ci fa. Io sono uno scelteore che mi trovi questa scena di grande. Io mi trovi una scena di grande di tutto. E allora? Io sono un pallone. Ma perché? Ma dove fanno a modo? Ma dove fanno? 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 Allora, noi siamo teatro a mola. Ma io parlo per me. E siamo un'associazione di improvvisazione teatrale. Che dire. Siamo arrivati con tante idee, tante aspettative. ma posso dire una roba che ci aspettavamo di tutto. Tu è stato tutto oltre alle aspettazioni che avevamo, perché noi ci siamo anche preparati. No, non mai perché a me stavo pulivando. Siamo preparati tanto anche per capire più o meno come condurre, se poteva piacere quello che presentavamo, ma alla fine dovevamo fare un'ora di laboratorio e abbiamo fatto un'ora e mezza, secondo me, un po' di più. E effettivamente quello che ci hanno dato loro lo abbiamo messo tutto nella corretta di laboratorio, secondo me. E non mi lo so. Poi diciamo che ci siamo preparati molto per questo appuntamento con Francesca, con Franceschi per il carcere, perché dovevamo proprio arrivare a una proposta che potesse veramente specchiare un po' il bisogno. Ecco, poi Francesca ci ha aiutato con grande chiarezza e devo dire che poi noi abbiamo messo del nostro. Però c'era una grande generosità da parte di tutti e questo è stato proprio molto concreto, molto vero. E quindi è stato molto bello, emozionante fino alla fine. Cioè poi, come dire, abbiamo, mi sento di dire, abbiamo dato voce un po' alle loro idee, anche ai loro pensieri. Abbiamo utilizzato, come dire, i bigliettini nell'arco di tutto il laboratorio, ma erano scritti da loro. Quindi possiamo dire che abbiamo messo in scena un po' i loro pensieri, i loro sogni. E anche oggi la nostra giornata insieme termina qui. Vi auguriamo di trascorrere un buon fine settimana. Quindi un saluto da me che sono Antonella Cortese, da Alessandro Masella, Enea Flacco, Maria Cristina Lolli e Paolo Aleotti. E non dimenticate di iscriverci a redazione liberi dentro chiocciola gmail.com o a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna e da tutti coloro che da fuori hanno avuto la pazienza e il piacere di stare con noi. A domani! A domani! Dona il tuo 5x1000 all'Associazione Insight. Codice fiscale 91427950372 Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Grazie.